Il miglior V8 Ferrari di sempre, così è stata presentata la Ferrari 458 speciale, speciale nel nome, speciale di fatto, ma quali sono le caratteristiche essenziali di questa edizione e cosa la differenzia dalla 458 originale? Questa 458 speciale, intanto mi piace dire che la presentiamo anche questa a Francoforte, abbiamo presentato l'Italia, la Spider e la speciale è sempre stato Francoforte il salone in cui abbiamo avuto questi lanci. La speciale è chiaramente derivata dalla 458 e per la Ferrari è stata una sfida, perché chiaramente la 458 Italia è stato il nostro vuoto sportivo di maggior successo di sempre. Quindi definire quali potevano essere le aree in cui creare una versione per quei clienti Ferrari che vogliono una macchina ancora più estrema, anche magari a costo di perdere un po' di comfort or board, non è stato facile. E rispetto alla scuderia o al 360 Challenge stradale, in questo caso abbiamo operato in maniera ancora più profonda sulle caratteristiche della vettura, lavorando sulle tre aree principali della vettura, motore, dinamica e aerodinamica. Il motore, il vuoto, è come cilindrata, ha lo stesso motore della 458 Italia, in questo caso abbiamo voluto aumentare la potenza fino a 605 CV mantenendo il regime massimo di rotazione a 9.000 giri, ma soprattutto per fare questo abbiamo sfruttato al meglio le competenze che ci vengono anche dal mondo della Formula 1 perché per raggiungere questo risultato abbiamo portato il rapporto di compressione a 14-1 che è un risultato eccezionale per i motori aspirati naturali e poi abbiamo raggiunto alla fine una potenza specifica di 135 CV litro che chiaramente è un risultato, se si pensa che la 458 già a 127 era la migliore del mercato, è un risultato tecnologicamente molto sfidante. Per fare questo abbiamo attinto, come dicevo, sia le competenze di materiali, di tecnologie della Formula 1 per quanto riguarda sia l'efficienza di combustione che l'efficienza, diciamo, meccanica, abbiamo lavorato con nuovi materiali anche per ridurre gli spessori, questo motore pesa 8 kg in meno del motore della 458 Italia e naturalmente da tutta la parte, diciamo, di portare il meglio possibile la giusta quantità di aria all'interno del motore stesso. La livrea è una livrea che si ispira alle corse del North American Racing Team che Ferrari con l'importatore Luigi Chinetti lanciò negli Stati Uniti negli anni 50 e soprattutto 60. Questa è una livrea storica, quindi il blu e il bianco erano i colori del team Ferrari in quelle gare. L'abbiamo voluta riprendere perché è stata una livrea poi usata su alcune delle nostre vetture più competitive, comprese per esempio le testa rossa.